E beh a tutti ragazzi tutti qui dal vostro Velo, oggi siamo sempre qui con il nostro Genoa Oggi avremo un sacco di partite di cui due importanti che sono quelle di conference che ci permetteranno di capire se riusciremo ad andare avanti nella competizione o no però non dobbiamo sottovalutare il campionato perché abbiamo comunque tre partite con Torino e Fiorentino e Udinese non scontate vediamo magari se riesco a simulare con una di queste due prevalentemente vediamo un po' come anche sono messe in classifica per andare magari al mese di dicembre giocare anche con la Roma e salutarci poi per l'ultima partita di conference dove se siamo già diciamo in una posizione ottimale possiamo anche simularla però adesso non chiacchiererei oltre ed andrei subito avanti ieri che possiamo giocare con la squadra delle riserve a questa partita contro il Rosenborg e ci vediamo in campo Andiamoci qua, tutto pronto comincia Genoa-Rosenborg Stavowski prova ad avanzare, si ferma, bello il numero, ancora Stavowski prova a cercarsi lo spazio per il tiro ottima però la risposta del portiere, calcio d'angolo, Barò dalla bandierina, cercare proprio Stavowski che prova di testa, ancora miracolo del portiere, ancora calcio d'angolo stavolta cercare però Barò che non ci arriva, gol da Messi, Baturina, cerca un po' di spazio l'appoggio per Kellon, Kellon, prova a metterla per Barò però è comunque in fuorigioco nonostante il gesto tecnico spettacolare stiamo qua, Rosenborg avanti, colpi di tacco, cose, mamma mia qua Vuscovic, miracolo stiamo qua, cambiasso, bella la palla per Barò cerca spazio, Barò lo trova, ancora Barò, che ha campo, Barò può andare in porta, nooo, stavo la messa adesso dentro invece, fuori di niente attenzione qua, al buco, al buco, Rosenborg stavolta però, Tommy fa un miracolo ripartiamo, Baturina, prova a lanciare Kellon, dovrebbe essere tutto buono, Kellon la controlla Kellon, Kellon è anticipato qua dal difensore attenzione qua, prova a partire a Thanosov che cerca un'imbucata perfetta per Barò mamma mia che palla, Barò, 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 al tu per tu col portiere, miracolo ancora però, non si segna oggi occhio qua, Rosenborg che al 65esimo trova un vantaggio trova un vantaggio, non so cos'altro dire mi sembra più una papera di Silva questa, un'uscita un po' troppo, cioè, piazzamento, malissimo e Holm porta in vantaggio proprio il Rosenborg, questo complica tutto finisce qui, vince il Rosenborg, si complica il cammino in conference con questa vittoria a meno che il Malmo non abbia perso, diciamo che saremo un po' più tranquilli ce lo giocheremo alle ultime due giornate e non lo so, raga, è stata un po' una partita strana non riuscivamo mai a segnare il loro portiere ha fatto un sacco di miracoli però anche noi forse poco concreti là davanti secondo me non dobbiamo più giocare con le riserve forse dobbiamo mettere i titolari in conference comunque, vabbè, abbiamo capito questo adesso vediamo qua i giocatori giovani se c'è qualcuno di interessante forse Castelli no, perché costa poco e quindi possiamo salutarli tutti adesso abbiamo la partita col Torino partita tosta questa perché comunque non siamo messi benissimo in campionato anzi, arriva un'offerta dalla Polonia che vabbè, non la rifiutiamo e qua tutti impegnati con Ucraina e Italia siamo molto contenti il Toro è quindicesimo io azzarderei una simulazione veloce col Toro un po', anche se la loro formazione è comunque bella forte 4-2 interessante, noi 4-3 di 4 gol quindi qualche volta anche a noi ci va bene è una bella partita quindi ottimo però vittoria importantissima questa che ridà un po' di fiducia anche perché adesso abbiamo forse non subito ma mi sembra di sì abbiamo la conference di nuovo se non sbaglio intanto 17 punti ci aiuta un bel po' questa vittoria a rimanere in scia comunque quella là davanti se non sbaglio adesso ah no abbiamo prima la Fiorentina ero convinto che avessimo subito la conference quindi ci vediamo direttamente in campo con la viola Deveci qua, tutto pronto comincia Fiorentina-Genua ho giocato con la squadra delle riserve perché voglio puntare tanto sulla conference e non vorrei uscire subito in quella maniera un po' così con un girone che sembrava fattibile invece si è rivelato veramente ostico e quindi speriamo che almeno da questa partita riusciamo a tirare fuori un pareggio anche se la vedo comunque molto dura perché la Fiorentina non scherza brutto mamma mia il miracolo qua il miracolo però perdiamo ancora sto pallone qua arriverà il gol dopo 11 minuti dopo il miracolo di Silva perdiamo una brutta palla lì e Federico Chiesa che torna sempre alla Fiorentina incredibile la Juve non lo riscatta mai torna a segnare per la maglia che lo ha lanciato e lo ha consacrato come uno dei migliori calciatori migliori giovani più che altro italiani in circolazione qua bruttissima palla persa lì da Sardella e diciamo che Chiesa da lì non può sbagliare tiene comunque il pallone nonostante sembrava che l'avesse perso ancora Barò infermabile Barò prova ma il portiere attento calcio d'angolo Kellon cercare qualcuno troppo sul portiere che non conosco e Badia mai sentito tra l'altro siamo nel lì all'imbella imbucata Stavoschi ottimo il movimento dai ti prego al minuto 34 riacciuffiamo una importantissima parità che diciamo direi meritata no perché comunque la Fiorentina dopo il gol si è chiusa praticamente in se stessa qua il bel buco difensivo l'ottimo inserimento da parte del nostro giovane del vivaio e pareggio temporaneo attenzione qua Baturina bella la giocata lancia Kellon bellissima la palla per Sardella la mette dentro Baturina la controlla Baturina palla fuori attenzione a Bari nostra vecchia conoscenza la carriera gol tra l'altro gol pazzesco qua di Nico González sto dicendo vecchia conoscenza a Bari a centrocampo qua la difesa comunque tra Tommy e Vuscovic ragazzi stanno facendo un po' cagare a tutti e due sarò sincero e molto anzi uno dei due sicuramente quasi prende il volo a gennaio non so chi magari aiutatemi voi nei commenti a scegliere chi secondo voi non merita di stare più qui perché insieme disastri totali e non so scegliere perché nonostante ho acquistato Vuscovic a poco in scadenza con tutte le buone intenzioni di questo mondo qua intanto mamma mia che miracolo di Silva non sta rendendo anzi sta giocando veramente male è la stessa cosa per Tommy che anche lui si è bello rincoglionito qua prova Kellon 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 palla alta azione qua palla dentro ancora la Fiorentina che trova il 3 a 1 gol che molto probabilmente chiuderà questa partita Bare segna infatti con la fascia di Capitano pure quindi tanta roba per lui qua mi sembrava fuori gioco quello ma a quanto pare no e niente niente da fare arriva pure il 4 a 1 Viola qua con un gol assurdo di di Cabral e poco da dire è meritato e la Viola sta meritando questo vantaggio che direi che ormai è bello pesante possiamo andare diretti al risultato vediamo se ce ne fanno altri la partita fortunatamente finisce così quindi c'è tanto da fare perché la squadra delle riserve non gira non gira a livello difensivo e a livello offensivo diciamo che più o meno tra l'altro ho visto dei problemi perché ha vinto il Malmo ha vinto il Malmo e quindi noi non possiamo più sbagliare noi dobbiamo vincere le tutte e due per forza perché se no siamo siamo finiti ok allora squadra dei titolari adesso però prima vi vorrei far vedere due giocatori che ho preso dal vivaio che mi sembra che non li ho fatti vedere e non li ho visti neanch'io allora uno è questo Murphy che sembra tanta roba 16 anni un potenziale spaventoso vediamo un po' se riusciamo però a trasformarlo in terzino perché lo vorrei terzino l'altro potrebbe fare anche il difensore centrale velocità fisico però non ha tanta difesa mostabilità piede debole no secondo me lui è più terzino che difensore però sui terzini siamo belli che a posto tra Esler e FT teoricamente non abbiamo bisogno noi mettiamolo per ora terzino scusate terzino destro non difensore sperando che poi possa diventarlo però dubbio dubbio assurdo però terzino dai vado per il terzino vediamo l'altro che è un centrocampista 15 anni 58 può fare tutto il centrocampo praticamente e passaggi dripling velocità diciamo statistiche un po' un po' paurose non so cos'altro però potrebbe fare qua il ragazzo vediamo due settimane da esterno visto però esterno lui si prenderebbe qualche punto overall ma niente di che COC AT T6 settimane AD4 e si proverei perché non mi sembra per nulla un centrocampista proverei a trasformarlo magari come un esterno perché il terzino mi sembra che non può farlo vero no 66 forza una sconfitta ora sarebbe proprio la fine perché il Malmo vincerà con Rosenborg quindi andrà a 10 se l'Anversa vince contro di noi va a 9 e te la giocheresti tutto all'ultimo col Malmo però dovresti sperare che l'Anversa perda quindi troppe combinazioni che poi con la fortuna che abbiano non si avvereranno quindi ci vediamo in campo dobbiamo per forza vincere ed eccoci qua tutto pronto comincia Anversa Genoa speriamo è l'ultima chiamata per la conference mamma mia qua che palla di Ugarte per Esler che prova a cercare Gudunson in qualche modo lo trova salta un po' tutti Gudunson traversa mamma mia se cominciamo così siamo belli che panati sono qua palla dentro pericolo andrà da in una maniera non ci credo si è fatto male pure Zaccaria ragazzi ma porca miseria esce Zaccaria per l'infortuna mentre Barò calcio d'angolo qua per l'Anversa mette questo pallone dentro proprio Barò a liberare con Gudunson che la tiene viva Ruskin e poi già Gudunson prova a salire Gudunson numero su Buta occhio che però è veloce infatti lo riprende però Gudunson non molla Gudunson prova un cross dentro cercare qualcuno Yeboah con la punta ma niente da fare se non è qua Gudunson bellissima la palla per Barò la controlla Barò si deve fermare salta bene Buta Barò mette dentro questo cross non ci arriva nessuno ancora noi Friandrup c'è Ruskin che controlla e tira Euro goal qua di Ruskin mamma mia che tocco delicato a giro che trova l'angolo più lontano dove il portiere non può arrivare la mette in sembra proprio lì sotto al 7 però diciamo che non ero molto aiutato dall'inquadratura quindi da qua capiremo meglio tiro da fuori area perfetto no non proprio sotto il 7 prende comunque la traversa qua possiamo vederla ancora meglio guardate come gira questo pallone quasi sotto al 7 mi viene da dire aiutato anche dalla traversa vantaggio importantissimo se ne qua Barò che ha campo per partire Buta è molto alto Barò Barò può volare sulla fascia Barò si ferma mamma mia ancora Barò salta un po' tutti bella qua la palla per Ugarte ti prego arrivaci 2-0 Genoa subito io dopo pochi minuti qua non ho capito perché il portiere non si è uscito intanto hanno un po' questi momenti di defaianza i portieri dove non escono e questo vantaggio però un doppio vantaggio importantissimo Barò si è minato il panico lì poi mi è partito l'analogico qua non esce il portiere non so sinceramente il motivo e 2-0 Genoa ecco a Raskin scatenato oggi bella qua la palla per Ugarte può andare a cercare la sua prima dopo Pietta con questa maglia la trova con un gol straordinario anche questo 3-0 subito iniziato il secondo tempo e subito Raskin Ugarte il nostro centrocampo che è la parte secondo me più forte ci sta portando avanti qua un grandissimo destro non può nulla il portiere 3-0 Genoa partita perfetta fino ad ora azione qua recuperiamo un'altra palla l'anversa non sembra essere sceso in campo ancora qua Gudunson con il numero nonostante subisce fallo la tiene alta Raskin la mette dentro per cercare proprio la tripletta d'Ugarte che però gli viene negata da un'ottima risposta del portiere calcio d'angolo Raskin dalla bandierina cercare dentro Efti di testa che non viene trovato ancora Raskin però da qui può anche provare la botta portiere però la alza sopra la traversa ancora calcio d'angolo non la colpiamo giocarte da fuori perde il pallone però recupera l'anversa stai qua Barò mamma mia ancora Barò si viene il panico Barò Barò prova lui da fuori Butez però stavolta la prende sbaglia però il rinvio Gudunson lascia Ugarte prova sempre lui da fuori ancora il loro portiere a dire di no ancora calcio d'angolo Raskin Palla dentro di testa di faccia la presa è un assedio totale stiamo facendo la partita della vita che non mi sarei aspettato sinceramente da com'era l'andazzo anche di questo episodio poi l'appoggio per Ugarte prova lui da fuori ancora il portiere a dire di no ancora calcio d'angolo Raskin cercare Gudunson non viene trovato ed esce bene l'anversa non ci credo si è rotto anche Gudunson stiamo vincendo ma a che prezzo si rialza però si tocca la spalla vediamo se segnala l'infortune o sembra di no non lo so rega mi sa che si è fatto male abbiamo perso sia Zaccaria che Gudunson brutte perdite qua miracolo di Barreto attenzione qua Barò Barò disturbato prova ad andare in porta Barò e nonostante il portiere la tocca fa un grandissimo gol che chiude definitivamente la partita al minuto 86 partita che però diciamo non c'è mai stata perché abbiamo fatto una prestazione da urlo niente da dire qua errore da parte del portiere gran tiro di Barò però Anversa che non è scesa in campo e meno male per noi direi che possiamo andare al risultato e risparmiarci questi ultimi minuti dove magari ne troviamo anche un altro però abbiamo vinto perdendo due giocatori importanti tra l'altro il Malmo pareggia questa è una bellissima notizia per noi perché ci aggiusta un po' la classifica lascia ancora tutto aperto Vuscovic qua ci ringrazia però giocatore infortunato 5 giorni Gudunson e Zaccaria nulla l'abbiamo tolto in tempo quindi meno male qua diciamo che ci aspettiamo di più da lui perché non sta brillando come ci aspettavamo e adesso abbiamo l'Udinese partita dove però dobbiamo andare a giocare assolutamente perché l'Udinese è alta è veramente alta in classifica è quinta sta facendo un campionato straordinario quindi dobbiamo stare attenti non sottovalutarla e ci vediamo in campo ed eccoci qua tutto pronto comincia Genoa Udinese tra l'altro visto che la squadra è un po' così perché devo sistemare i contratti diciamo che arrivati quasi alla terza stagione se non sbaglio bisogna tirarli un po' su perché hanno ragione a lamentarsi anche perché con gli ultimi arrivi si li ho dovuti per forza tirare attenzione qua subito madonna che miracolo che miracolo qua il portiere sono un attimo messo in muto perché qua niente ho capito ho capito subito che partita sarà però siamo partiti troppo forti e niente niente va bene stavo dicendo visto che si sono calmate le acque dopo sette minuti dove il portiere finora ha preso di tutto che devo tirare sui contratti perché con gli ultimi acquisti diciamo ho dovuto tirarli su per forza e niente lo farò off camera magari anche uno di voi se non mi ricordo male me l'aveva detto è arrivato quel momento fortunatamente abbiamo qualcosa a livello di soldi ma qualche partita stiamo vedendo 11 minuti dove sono fioccate occasioni sia da una parte che dall'altra adesso mi azzistisco perché qua sento già un gol nell'aria non so da parte di chi sarà sicuro loro però sta per arrivare vediamo se arriva proprio adesso gol infatti dopo 14 minuti il Genoa si il Genoa ciao magari l'Udinese è in vantaggio se non è Barò prova lui a campo Barò attenzione Barò Barò non ci credo ancora noi in avanti con Barò che si è mangiato un gol già fatto prova qua a riscattarsi Barò Barò prova ma il portiere ancora dire di no mamma mia tutte le sta prendendo calcio d'angolo percare Zaccaria di testa non la trova c'è Ostigard che però gliel'appoggia tra le braccia Castelli che prestazione da 10 al momento se non è qua Zaccaria Zaccaria si inserisce bene Zaccaria Zaccaria prova palla che rimane lì il gol più brutto tra tutte le occasioni che abbiamo avuto questo è proprio il più osceno di tutti palla che carambola sui piedi di Yeboah che deve solo appoggiarla in porta assurdo veramente come tutte le occasioni che abbiamo avuto deve entrare così questa oniera oscena viene da dire il pallone però va bene questi sono sempre gol che ci portiamo a casa ancora noi free and group l'appoggio bello qua la palla arriva a Hefti in qualche modo c'è Esler volendo da solo sull'altro palo palla palla però troppo arretrata teniamo ancora noi con Ugarte e appoggio Zaccaria che ha un po' di spazio mamma mia pensavo entrasse per un attimo tiro assurdo qua di quant'è uscita ma tu regà di niente era un euro gol questo mamma mia che gol che ha trovato qua però regà che sfiga ogni volta noi a pigliare euro gol ogni volta gol assurdo qua clamoroso noi piazzati male ovviamente però guarda qua dove l'ha messa imprendibile per per Andrada l'ha messa lì tolto le ragnetere Ruskin torna indietro Paturina appoggio per Kellon che si gira benissimo Kellon vabbè altro miracolo ancora qua Udinese palla dentro Efti spazza due minuti di recupero vediamo se riusciamo a ripartire un'ultima volta con questo pallone forse sì vediamo se l'arbitro ce la lascia portiamo qua è fresco e niente da fare vince l'Udinese che è quinta per un motivo gli gira tutto bene quindi ci sta e poi hanno un portiere incredibile non so se Origeno mi sembra di sia Origeno non so di chi ma assurdo assurdo il loro portiere ha preso di tutto sconfitta allora sconfitta che fa male qua Barro ci ringrazia per l'averlo fatto giocare perché Gudunson era indisponibile siamo decimi un campionato nell'anonimo fino ad ora diciamo un mese con due sconfitte pesanti contro Fiorentino che ci hanno complicato molto il percorso adesso avremo anche la Roma quindi un'altra partita difficile non lo so la Roma direi che però la giochiamo nel prossimo episodio anche loro non sono messi bellissimo a livello di classifica qua arriva un'offerta dove deleghiamo e prestiamo per due anni speriamo accettino e un resoconto dei nostri giovani che va bene così che dire ragazzuoli io direi che per questo video è tutto abbiamo visto un paio di partite come al solito nel prossimo giocheremo forse tutto il mese guarda gli Stati Uniti ci chiedono la panchina ma rifiutiamo rifiutiamo anche la Polonia visto che siamo qui e chat col giocatore Gudunson ci penserò ma lo rimettiamo subito direi titolare qua ovviamente comincia a scendere l'overall per la situazione contratti che sistemo subito off camera senza perdere ulteriori tempo perché sennò qua ci cacciano perché l'anno buono anche perché abbiamo degli obiettivi veramente difficili e vabbè mi sembra di avervi detto tutto di aver fatto tutto Vuscovic continua a scendere non so come tirarlo su io li faccio allenare ma niente da fare speriamo di superare anche questo periodaccio e se il video vi fosse piaciuto lasciate un mi piace un commento al vostro è tutto noi ci vediamo al prossimo video